In questi giorni sta procedendo l'indagine. La pista familiare continua a prevalere, gli inquirenti si concentrano nello specifico su Anna Corona, l'ex moglie del padre biologico di Denise, Piero Pulizzi. Al centro delle indagini ci sarebbero gli spostamenti della donna in quella mattina di 17 anni fa, attorno all'hotel Ruggero II, luogo di lavoro della Corona. E proprio attorno alla sua figura si incentra l'indiscrezione della puntata di venerdì 23 luglio di quarto grado. Stando a quanto riporta la trasmissione, ci sarebbe una situazione compromettente che riguarda uno dei due indagati. Ricordiamo che la procura ha inserito nel registro degli indagati Anna Corona e Giuseppe della Chiave. All'inizio il conduttore ha parlato genericamente di una situazione compromettente che riguarda uno dei due indagati. Vale a dire Anna Corona e Giuseppe della Chiave. Il programma è poi entrato più nello specifico rivelando che la situazione compromettente è relativa ad Anna Corona. Si è appreso che è anche stato nominato un tecnico per esaminare qualcosa che riguarda Anna Corona. Resta ora da attendere quali risultati produrrà, se la donna verrà chiamata o ci sarà addirittura un rinvio a giudizio. Non è ancora chiaro se la situazione compromettente riguardi fatti del passato o elementi emersi durante l'ultima indagine. Per il momento non è dato saperlo perché vige il segreto istruttorio. Secondo voi, verrà svelato qualcosa di importante? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.